E' un ponte tra tradizione e innovazione, il dessert vincitore di Dulcis in Primis, il concorso promosso dalla Regione, che dopo il successo l'anno scorso di Primi di Toscana, dedicato ai primi piatti tipici regionali, ha visto sfidarsi in cucina a colpi di dolci gli studenti delle ultime classi dei corsi di enogastronomia di 15 istituti albergheri della Toscana. A vincere la finale, che si è tenuta all'Istituto Martini di Montecatini, vincitore l'anno scorso di Primi di Toscana, sono state due studentesse del Datini di Prato, che con il loro Prato contemporanea hanno sintetizzato i sapori del territorio in chiave innovativa, valorizzandone il gusto e i colori, perché proprio riscoprire le ricette locali con creatività e competenza è stato il compito assegnato ai ragazzi. E' stata una formula che ha avuto un grande successo lo scorso anno, l'abbiamo riproposta, e se possibile quest'anno abbiamo avuto ancora più entusiasmo, perché appunto dopo un primo collaudo i ragazzi hanno lavorato da subito con i loro insegnanti, e cosa molto importante anche con il territorio, perché questo è un po' il valore aggiunto che noi intendiamo dare. Cioè cerchiamo di alzare la qualità dell'offerta formativa, quindi dare degli stimoli anche ai ragazzi, una sana competizione per poter tirare fuori da loro, dalle loro squadre, il meglio, ma cerchiamo anche di realizzare connessioni, relazioni fra la scuola e i territori. Devo dire che ci sono tanti consorsi che hanno dato l'appoggio, ma anche tanti ristoranti, tanti chef che hanno dato la collaborazione per aiutare i ragazzi a creare delle ricette, in questo caso di dolci, che fossero anche un po' il testimonial del territorio, quindi è quello che noi chiediamo nel nostro concorso, cioè che vengano valorizzati gli ingredienti a chilometro zero che fanno parte proprio del DNA della nostra tradizione culinaria. Una tradizione che le giovani vincitrici del concorso hanno valorizzato richiamando nella forma del loro dolce le linee e curve di un'astronave, simili hanno spiegato a quelle del Museo Pecci di Prato. Qual è dunque il segreto del loro piatto? È composta da una prima mousse al vinsanto e ricotta di pecora e una seconda mousse composta da fichi secchi di carmignano e ricotta di pecora adagiata su un crumble di biscotti di prato salati. Il tutto decorato con una glassa a specchio nera, lamponi e fiori colti nell'orto della scuola. Qual è stata la sfida più impegnativa nella preparazione del dessert? Sicuramente l'abbinamento di tutti le materie prime del nostro territorio e forse anche l'impiattamento, l'idea di come impiattare. Perché il lavoro, prima di arrivare alla tavola della giuria, è stato lungo con i ragazzi impegnati nella cucina della scuola a impastare, amalgamare ingredienti, preparare frolle e creme pasticcere e decorare per rendere unici i piatti e mettere a frutto le competenze acquisite a scuola. Un'esperienza da consigliare a tutti? Sì, io personalmente sì. Sinceramente proprio io lo consiglierei calorosamente perché è un'esperienza di vita. Anche perché noi ci siamo buttati su questo concorso e non pensavamo mai di arrivare addirittura nei primi tre classificati ed è stata una bella emozione. Sul podio, dopo il Datini, sono saliti per secondi gli studenti del Foresi di Portoferraio con una panna cotta alla nipitella, limoni di Sant'Andrea, crambola al cioccolato e schiaccia briaca e terzi quelli del Vasari di Figline Valdarno con una speciale rivisitazione del panforte. Alla gara hanno partecipato anche i ragazzi degli istituti Buontalenti e Safi di Firenze, Matteotti di Pisa, Minuto di Marina di Massa, Fratelli Pieroni di Barga e Inaudi Ceccherelli di Piombino, Venni le Capezzine di Cortona, Mattei di Rosignano Marittimo, Marconi di Viareggio, Enriches di Castelfiorentino, Leopoldo di Lorena di Grosseto, Pacinotti di Bagnone. Per i ragazzi sicuramente le gare, confrontarsi ogni tanto tra di loro, vedere come lavorano gli altri è molto importante. È molto importante avere anche un giudizio alla fine di una giuria qualificata come quella che si è appena insediata, per avere un riscontro al loro lavoro, quindi è molto importante, senz'altro. Sicuramente è un'iniziativa molto interessante, molto ben fatta, che speriamo possa continuare nel tempo. Ci sono praticamente tutti gli istituti alberghieri della regione, quindi questa è veramente una bella cosa. Nel percorso dalla cucina alla sala, tutti gli studenti che hanno partecipato alla gara hanno dimostrato competenze e professionalità, che insieme ai sapori e agli abbinamenti con i vini, hanno conquistato e stupito i componenti della giuria. Nella maggior parte dei casi sorprendono per la creatività e la qualità che non immaginiamo neanche, quindi ancora di più questo rafforza il nostro sentimento di continuare a spendere energie su questo settore e su tutti gli altri naturalmente. L'impegno degli studenti si è tradotto nei piatti che sono sfilati davanti ai giudici, sfoggiando le loro caratteristiche uniche per forme, colori e sapori, tra frolle e chantilly, cioccolato e segreti che solo gli chef possono custodire. Il tutto tradotto in dolci che, messi insieme, hanno offerto un concerto di profumi e gusto irripetibile. Un lavoro lungo che ha permesso agli studenti davanti ai fornelli in cucina di mettersi alla prova e di proiettarsi sul mondo del lavoro che le aspetta dopo gli studi e le esperienze a scuola. La cosa bella che dico da docente è che è una grande e bella opportunità per i ragazzi, per una crescita e un avvio di carriera strepitoso. L'emozione di arrivare, prepararsi, ricercare, rispettare un bando e confrontarsi, credo che sia, tra gli elementi della nostra missione di educatori. A uscire valorizzata dalla gara tra gli istituti alberghieri è stata la filiera dell'eccellenza agroalimentare, rappresentata anche dai consorsi di produttori che hanno aderito all'iniziativa della regione e che ai ragazzi in gara hanno riservato molti premi. Un'esperienza da ripetere. È importante riproporla perché effettivamente per le scuole alberghieri queste esperienze portano anche i ragazzi a conoscere tutti i prodotti del territorio e saperli anche utilizzare. E ora, infatti, si pensa già al futuro per non disperdere l'interesse e l'entusiasmo dimostrati dalle scuole e dagli studenti. Tanto entusiasmo, tanta voglia di vincere e questo è molto bello ma anche tanta voglia semplicemente di partecipare quindi credo che sia una sperimentazione che ha dato veramente i suoi frutti positivi e quindi abbiamo intenzione come Regione Toscana di continuare a promuovere questa iniziativa di investirci e a renderla, perché no, strutturale e perché no, anche un modello modellizzarla per altri settori non solo quello della ristorazione ma anche altri settori dell'istruzione professionale.